La Nico Basket Serie A2 femminile sta ultimando la preparazione in vista delle importanti sfida di sabato sera a pala per team di Pontebugianese ore 21 contro il Civitanova Marche, avversaria diretta nella corsa alla salvezza. La formazione Valdinevolina e Redusce dal Cappo di Bologna contro la Mattei Plast, una sconfitta per certi versi preventivabile visto la forza delle felsine, autoritarie soprattutto in casa. Al momento facendo debiti scongiuri le rosa-nero di coach Biagi e Becciani dovrebbero essere al completo. Le marchigiane invece arrivano a questo scontro dopo il successo neppure troppo soddisfacente di domenica scorsa con Forlì e dopo la batosta di mercoledì sera nel recupero casalingo della decima giornata contro Campobasso, una debacle pesante che ha visto la capolista imporsi per 85 a 38. Attenzione però l'impressione che il Civitanova, che ha un record di cinque partite vinte e sette perse, abbia risparmiato delle energie e delle giocatrici per il ben più importante match con la Nico. La guardia Ada De Pasquale, per esempio, una delle atlete più rappresentative insieme alla Play Perini e alla britannica Gaskin Pivot, a metà settimana non ha giocato, anche se molti la danno pronta per il rientro dopo un infortunio. Sapevamo che contro Campobasso sarebbe stata una partita complicata, detto nel post-gara coach Nicola Scalabroni. È stato un modo anche per prepararci in vista della partita di sabato e anche se il parziale è stato pesante dobbiamo rimanere tranquilli e concentrarci sulla Nico Basket. Il sabato dedicato al basket femminile avrà inizio alle 17 con la festa di tutte le squadre che partecipano al progetto, dalle giovanili alla Serie A2. Il tutto sempre nell'impianto puntigiano.